Incensurati ed insospettabili, eppure, viaggiavano con due chilogrammi di ascici in uno zainetto. Per questo, due giovani incensurati sono stati arrestati dalla polstrada di Battifolle lungo il tratto aretino dell'autosole. I due, appena maggiorenni residenti nel Trevisano, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto con targa italiana. Sono stati fermati intorno alle tre del mattino e al controllo dei poliziotti, non hanno fornito spiegazioni troppo convincenti del loro viaggio e così gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale, estesa poi anche all'auto. Sotto i sedili, uno zainetto dal quale sono saltati fuori 22 panetti di cellophane contenenti 2,2 kg di ascici che avrebbero fruttato circa 50.000 euro sul mercato dello spaccio. I due sono stati arrestati e nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche uno smartphone provento di una rapina perpetrata lo scorso 24 febbraio in provincia di Belluno per la quale sono state avviate le indagini per capire se i due arrestati abbiano avuto un ruolo attivo o siano solo entrati in possesso del telefonino e siano quindi responsabili anche del reato di ricettazione.